eee what hi a tutti ci ormai benvenuti raggiocherina in questa nuovissima serie su omori vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire per cui vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like per avere il prossimo episodio ve ne chiedo davvero pochissimi ragazzi e per voi è soltanto questione di un secondo per cui mi raccomando spolliciate ebbene che dire che prima o poi questo gioco comunque lo avrei dovuto giocare in un modo o nell'altro è stato fino a poco tempo fa soltanto in lingua inglese è stato messo da pochissimo anche in lingua italiana per cui io ringrazio ancora di cuore ninja splendente per la segnalazione perché se fino ad ora ragazzi ho aspettato a portare questo gioco il motivo insomma era proprio perché ci fosse soltanto lingua inglese quindi non volevo avere troppa difficoltà durante i gameplay ovviamente a fare la traduzione però caso ha voluto che fortunatamente decidessero di inserire anche la lingua italiana e quindi mi sono detta credo proprio sia arrivato il momento di portare anche questa serie vi ho mostrato qual è il messaggio che esce prima di arrivare nella schermata principale del gioco perché ragazzi per chi non conoscesse di fama questo gioco stiamo parlando di quello che è un horror psicologico a quanto pare anche dai contenuti parecchio pesanti non so se questo vi ricorda qualcos'altro giusto un altro gioco assolutamente a caso che ha avuto parecchio riscontro qua nel mio canale ovviamente ragazzi mi sto riferendo a Doki Doki e a quanto mi sembra di aver capito anche questo gioco non è da meno per quanto sembri effettivamente a causa della grafica alquanto innocente e poco convincente da quel poco ragazzi che ho letto in giro a quanto pare questo gioco è davvero invece molto capace di sconvolgere il giocatore quindi io mi sento comunque io non ho la minima idea ragazzi quale sia il contenuto di questo gioco è stata la stessa cosa insomma quando abbiamo giocato Doki Doki non so a cosa stiamo andando precisamente incontro ma mi sento quindi grazie anche al messaggio inizio gioco e comunque a quello che ho letto in giro mi sento di consigliare ai più sensibili magari di evitare la visione o perlomeno cominciare a seguire la serie se arrivati ragazzi ad un certo punto le persone più sensibili dovessero accorgersi di non riuscire più a tollerarne la visione ovviamente ragazzi di chiudere eventualmente il video sono davvero molto molto curiosa e non vedo l'ora comunque a mio rischio e pericolo di giocare questo gioco voi sapete ragazzi i miei trascorsi quindi i problemi che ho avuto anche io a causa della depressione che insomma mi sto trascinando in ogni caso tuttora ma si cerca ovviamente di restare a galla ragazzi il più possibile e quindi sapete quanto io sia sensibile estremamente sensibile in generale ma quanto sia estremamente sensibile soprattutto a certi argomenti quindi a mio rischio e pericolo inizio questa serie cercherò di finirla anche se so che il gioco non dura poco ragazzi quindi io vi chiedo comunque supporto almeno con i mi piace ragazzi se dovesse appunto interessarvi questa serie credo di essermi dilungata fin troppo sono talmente curiosa che non sono riuscita ad aspettare di finire le altre due serie che ho in corso ragazzi ma veramente non vedevo l'ora se qualcuno se lo stesse chiedendo io userò il pad per giocare quindi non ci resta che incominciare una nuova partita a vostra discrezione la visione di questa serie non temere andrà tutto bene qualunque cosa accada promettimi che saremo sempre pronti ad aiutarci promettimelo ok benvenuto nello spazio bianco cos'è lo spazio bianco da quel che ricordi hai sempre vissuto qui spazio bianco ok siamo in game ragazzi non fatevi ingannare dalla grafica ok io non voglio farmi ingannare dalla grafica perché anche dietro una grafica molto semplice possono esserci i contenuti più profondi anche Doki Doki era semplicemente ragazzi una graphic novel e guardate un po' che ha combinato quindi allora siamo in game qui c'è un gattino tra l'altro un gatto nero sembra la piccola Robin amore aspetti che accada qualcosa il gattino una scatola di pazzoletti per asciugare le tue lacrime ok davvero fantastico il tuo album da disegno vuoi sfogliarlo? sì perché no iniziamo benissimo ok 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 wow forse avrei preferito non sfogliarlo vai iniziamo veramente benissimo il contenuto di questi disegni è meraviglioso tante figure strane tanto rosso ok lampadine questo cos'è? ok che bello bene veramente un artista un artista hai acceso il portatile ah è un computer pensavo fosse una tv che cosa vuoi fare? apri il tuo diario visto che siamo qua oh madonna giorno allora particolarità non c'è scritto il giorno e l'orario dice 0 0 0 oggi sono stato nello spazio bianco è andato tutto bene è scritto tipo per 10.000 volte come è scritto 10.000 volte oggi ho incontrato i miei amici è andato tutto bene c'è scritto solo questo ragazzi non c'è altro fissa lo schermo fissiamo lo schermo è fissato lo schermo ok non c'è altro da fare qui sul portatile il calore del portatile ti ha scaldato il grembo è stato piacevole che minchia è stato qualcosa è caduto qui vicino cos'è stato? una lampadina pende dal soffitto ovunque esso sia abbiamo visto raga quanto era lungo il filo della lampadina vuoi fissare dentro la lampadina? sì perché no è nera tra l'altro sta lampadina dentro è buio pesto non riesci a vedere nulla ok una lampadina nera tra l'altro il posto è tutto bianco quindi non abbiamo manco bisogno di luce la porta una porta bianca proietta un'ombra indistinta che cosa vuoi fare? mi dà solo l'opzione di non fare nulla hai osservato la porta? ok è caduto qualcosa qui vicino ah ma possiamo andare possiamo andare anche fuori lo spazio in cui eravamo hai trovato un coltello lucido? ok l'abbiamo preso e sta mano? ehi che cacchio è? ma cosa sono ste mani? se non sbaglio erano oh erano raffigurate pure nel nel diario ma mi seguono quindi oh ah possiamo correre perfetto possiamo correre con quadrato che ci faccio col coltello tra l'altro? ok è tutto davvero molto strano ragazzi il punto è che queste mani sono dappertutto io non so per quanto oh sono riuscita di nuovo qua non so sinceramente cosa fare con questo coltello ragazzi ah ok così possiamo aprire l'inventario quindi è lui omori è lui che si chiama omori equipaggiamenti chi scegli omori ah come arma quindi abbiamo equipaggiato il coltello lucido vedi chiaramente il tuo riflesso nella lama che abilità abbiamo poesia triste fa provare tristezza al bersaglio amico nemico costo 5 agisci prima gli altri 12 danni per un turno quindi avremmo pure la avremmo pure la capacità tipo di combattere o robe del genere apri la porta aspettate adesso mi permette di aprire la porta apriamo la porta allora ma che cavolo what the fuck eheh ciao chi siete obri ciao omori aspettavamo proprio te ti va di giocare a carte stavamo giusto iniziando un'altra partita ok oh ops lasciamo perdere oh accidenti ma che ti è preso obri che succede hai buttato all'aria le carte e stavo anche vincendo subì a kel non c'è bisogno di arrabbiarsi così quindi abbiamo obri hero e kel è solo un gioco dopo tutto non ci provare hero dici così solo perché stavi perdendo ste musiche comunque hanno un non so chi inquietante ragazzi permettetemi di dirlo ok possiamo muoverci c'è un film in televisione quattro ragazzi camminano sulle rotaie cos'è sta roba c'è un tentacolo che sporge dal terreno vabbè è ricevuto pupazzo what the fuck è evidente che questo mondo non è reale ragazzi c'è c'è sta un gatto gigante che ci osserva un unico fagiolo su un piatto cos'altro abbiamo qua la foto di qualcuno che conosci è problema di toast perché no sì infatti toast ok non posso fare altro un morbido cucina a forma di testa di ragazza bello un regalo ben impacchettato un frullatore una mazza e un cappello da baseball qua c'è un uovo per terra what the fuck che schifo sto gatto un buco ah è un buco a forma di gatto c'è un serpente non puoi andare via senza i tuoi amici ok perfetto la torniamo da loro ma perché kelly è sempre cattivo con me sai l'altro giorno quel buonannulla ha rubato il mio pupazzo l'ha nascosto nella stanza perché mai fare una cosa simile è davvero immaturo insomma che cosa gli ho fatto per meritarmelo ce l'ho al pupazzo guarda puoi ritrovare il mio pupazzo muori per favore ce l'ho ce l'ho già l'ho trovato ma quello che sia obri ti strappa il pupazzo di mano ehi kelly guarda è il mio pupazzo come è possibile dove lo hai trovato lo ha trovato omori per fortuna ho degli amici veri ti sta bene kelly dovresti essere più maturo di così ma ha iniziato obri è stata lei a prendermi in giro per un neo sul mio sul tuo cosa eh sul tuo che what obri e va bene tra l'altro perché io sono l'unico in bianco e nero qua in mezzo l'ha preso in giro per un neo succosa uffa obri l'ha sempre vinta ehi omori grazie per aver risolto tutto quei due stanno sempre a visticciare mary e basil ci hanno invitato a un picnic al parco giochi ti va di andare ah ci stanno anche altri ragazzi perfetto allora andiamo da mary e basil ok andiamo tutti insieme a quanto pare sì possiamo andarcene quindi stai uscendo omori ecco la tua paghetta per oggi hai ricevuto 50 vongole veniamo pagati in vongole ma seriamente ok dov'è obri e vai finalmente aria fresca la natura è il massimo bene andiamo dov'è obri ehi un momento eh appunto ma che ma aiutatemi ragazzi sono incastrata ma com'è fatto ad incastrarsi solo se lo chiedi gentilmente Kel smettila di fare lo scemo e tirami fuori di qui ok ok va bene e ok te la sei presa comoda ma sei arrivato subito le mie scuse principessina va bene allora siamo usciti da questo bugo in questo tronco d'albero monco e siamo in mezzo al verde cioè in mezzo a un parco però ovviamente ragazzi questo è cioè un mondo immaginario cioè non che cos'è sta roba vuoi costruire il castello di sabbia con i tuoi amici perché no visto che ci siamo ah stiamo a fare il bagno chi si fa il bagno chi costruisce il castello di sabbia perché dice un water sembra un water quello ha fatto un water di sabbia what the fuck ok tutto molto strano cosa cacchio era quella roba hai paura di annegare ecco perché non ha fatto il bagno ha paura dell'acqua ma cos'era quella figura più che altro va bene possiamo correre probabilmente dovremmo andare da un'altra parte sinistra destra giù ci stanno vari posti da poter vedere a quanto pare ma allora qua è tutto chiuso di qua possiamo continuare il lampione sembra condurci a narnia probabilmente qua c'è una ragnatela è una ragnatela hai paura dei rani ma guarda un po' allora io sicuramente quindi ci avete beccato in pieno quindi non solo ha paura di annegare ha anche paura dei rani quindi sto povero ragazzino ovviamente ha diverse paure un po' come tutti noi ragazzi quindi andiamo di qua uh che bella che bella girandola se andiamo di qua invece ci sarà qualche altra cosa che ci bloccherà il passaggio è paura delle altezze quindi ha anche la fobia delle altezze allora la paura di annegare non so se è un nome specifico la paura dei rani raga sappiamo arachnofobia la paura delle altezze non so qual è la c'è la parola precisa per la fobia delle altezze cos'è sto coso ma ci stanno strane presenze ma cos'è su sti cosi ma sono tutti esseri non ben identificati what the fuck ecco maria basil si chiamava basil mi sembra di si mary basil weee ciao ragazzi ci rivediamo che se è tutto estremamente strano se proprio la devo dire tutta oh ciao obri buongiorno a tutti come state oggi kelly è stato di nuovo cattivo con me di nuovo ma è terribile perché fai così ma che cattivo è cattivo e obri che si lamenta sempre accidenti kelly una difesa convincente ora non so a chi credere credi a me no credi a me dai smettetela perché dovete fare sempre così dai hero non abbatterti così ti senti sempre responsabile di tutto certo è ciò che ti rende affascinante ehi c'è una gottarella subì amari non è il momento dai hero lo sai che ti prendo in giro sei adorabile quando arrossisci ok mentre vi aspettavamo basil e io stavamo sfogliando il suo album di foto volete unirvi a noi certo dopo tutto ci siamo noi in quelle foto no basil basil dai guarda un po' qua su basil scattami una foto perdona michel scatto foto scatto foto solo a chi non se lo aspetta ok li cogli di sorpresa le espressioni sono più vere vuoi che i tuoi soggetti si comportino in modo naturale ignorando di essere davanti all'obiettivo giusto basil esatto sì c'è qualcosa di speciale nel vivere la vita di tutti i giorni sono quelli i momenti che voglio immortalare quindi dobbiamo fare finta che tu non sia qui si puoi metterla così capisco farò del mio meglio adesso possiamo sfogliare il tuo album di foto basil ah certo ma non è nulla di speciale dai basil non dubitare sempre di te stesso saranno foto bellissime hai ragione obri scusami proverò a credere di più in me stesso ecco così potete vedere tutti vediamo un po' ste foto oh che carine mary sta insegnandoci a fare corone di fiori omori e kel tengono in mano l'esempio di mari che bella bellissimo omori e kel hanno rinunciato e sono corsi via ma io e obri abbiamo capito come fare iro è ancora alle prese con la sua corona sta facendo un po' di fatica ma c'è quasi la sua tenacia è da ammirare stiamo mangiando tutti l'anguria come succosa obri ha dei semi in faccia forse qualcuno dovrebbe avvisarla che è il che beve del latte la sua bevanda preferita meglio non avvicinarmi potrebbe rovesciarlo sulla macchina fotografica mari e iro ci hanno scattato una foto dicono tutti che la corona di fiori mi stia bene omori è l'unico in bianco e nero ragazzi perché iro ha deciso di dargli un bacino kel sembra davvero infastidito ah l'amore fraterno ah sono fratelli oggi faremo un picnic mari ha voluto scattare una foto con tutti sorridete dopo mangiato dopo mangiato si sono addormentati tutti tranne iro e mari anche io ho abbastanza sonno kel dice di essersi fotografato per errore ma non glieli credo tutti i nostri piedi in circolo riesce a indovinare a chi appartiene ciascun paio beh riesco a individuare solo quelli di omori che sono neri perché ok era l'ultima foto e qua ci sono degli spazi vuoti ovviamente non c'è altro ok sono foto davvero belle basil tu si che sai come cogliere l'attimo grazie non le ho scattate tutte io comunque mari si diverte a prendere la mia macchina fotografica solo ogni tanto ehi ho un'idea mi va di passare a casa mia ho piantato dei nuovi boccioli che vorrei mostrarvi dai sono davvero carini certo sembra divertente andiamo si trova a sud del parco giochi no esatto per di là perfetto stavolta io non vengo voi andate divertitevi ma se vi sentite stanchi fermatevi pure a uno dei miei picnic vi lascerò sempre pronto qualcosa per rifocillarvi e potrete anche salvare usando il mio cestino ok oh grazie mari pensi sempre a noi ciao mari ci vediamo dopo andate e divertitevi sapete dove trovarmi ok quindi praticamente il picnic serve come punto di salvataggio principalmente sì perfetto ci permette di salvare il punto ragazzi che l'unico che non parla mai è umori perché delle succulente caramelle vuoi mangiarne un po' perché no quindi vabbè probabilmente questo servirà a ristabilire la nostra salute insomma tu e i tuoi amici vi sentite come nuovi esatto quindi vediamo un po' cosa c'è qua intorno ragazzi volerò fino alla luna berly parla così in fretta quando è emozionata diventa davvero difficile starle dietro ehi umori indovina un po' ho dei piani per oggi e belli grossi fermati ancora un po' aspetta e vedrai ehi un momento dove pensate di andare? non potete andare via senza giocare con noi a nascondino restate a giocare con noi più si è meglio è giocare di nuovo a nascondino? no lo sai come è andata a finire l'altra volta già scusaci perli non contare su di noi stiamo giusto andando a casa di basil quindi ci becchiamo più tardi un momento state di nuovo cercando di evitarmi ma che mi è preso? è colpa della mia faccia della mia aria da dura sono comunque meglio di boss per fortuna l'ho cacciato dal parco giochi dopo il disastro dell'ultima volta cosa starà facendo adesso con lo sciocco? eh stiamo meglio senza vediamo tu vuoi giocare a nascondino basil? a me va bene tutto non c'è fretta di andare a casa mia penso che lascerò la scelta o mori tu cosa vuoi fare? no ragazzi allora se o mori o mori amico mio dai sicura sai sicuramente giocare a nascondino no? allora se hanno detto abbiamo visto come è andato a finire l'ultima volta direi che forse è meglio evitare eh non se giocare a nascondino ma che razza di infanzia hai avuto? a questo punto devi proprio restare a giocare con noi ti spiegherò le regole dopo aver chiamato tutti no dai speravo di no sull'attenti ecco qua bene formiche ecco le regole ci tratterremo insieme con una piacevole partita nascondino come potete vedere ho delle piagliuzze in mano no? ognuno di noi ne prenderà una chi prenderà la più corte dovrà trovare tutti gli altri è semplice no? madonna santa stiamo freschi ragazzi abbiamo tutti una pagliuzza perfetto adesso vediamo chi dovrà acchiappare gli altri a chi tocca? scommetto 100 euro che tocca a me guarda guarda sembra che aver preso la pagliuzza più corta sia stato oh Mori ovviamente oh tocca a lui ma a Mori non piace restare da solo attenzione accogliere i dettagli pensi potercela fare o Mori se vuoi ti sostituisco io non mi dispiace davvero ehi vi sento complottare sono le pagliuzze a decidere non io su non fate i bambini non è una tragedia o Mori ce la può fare quando sei pronto a giocare vai al palo da tetherball e chiudi gli occhi e non sbirciare o te la faccio pagare ok andiamo al palo decoso 5 4 3 2 1 via ok quindi ovviamente adesso devo trovare tutti ok allora omori psst omori sono qui eh si te vedo infatti wow sei riuscito a trovarmi ora posso aiutarti a trovare gli altri ma non dirlo a berli va bene ok non mi vuole lasciare da solo perché naso va se fai rumore ci sentiranno naso va va ah fai silenzio naso ci stiamo nascondendo ricordi eccovi qua vi ho visto mi ho trovato chignon e naso naso ci hai fatto scoprire naso va oh lo sai che non posso restare arrabbiata con te andiamo a giocare a battimani ok qua c'è questo grosso a quanto pare non ci sono molti posti dove uno grosso come può nascondersi mi è stato divertente finché berli è contenta mi va bene tutto ok dove saranno mai gli altri allora questi li ho già trovati ecco qua accidenti sei riuscito a trovarmi che peccato andiamo a cercare insieme gli altri umori ok non mi vogliono lasciare da sola ma perché eh dove sono ah ho sognato di essere sulla mia speggia privata con tattori servitori a sventagliarmi con foglie di palma all'improvviso spam mi sono ritrovato qui devo essermi addormentato mentre stavo nascosto direi che il gioco è finito per me ok questi che fanno qua oh ehi ragazzi sapete avevo trovato un ottimo nascondiglio ma Sean e Ren mi hanno proposto di fare ginnastica con loro è divertente e fa bene la salute dovreste provarci anche voi è davvero un ottimo oh diamine sono così stanco wow non riesci proprio a dire di no a nessuno eh Hiro forza Hiro dobbiamo aiutare umori a trovare gli altri va bene va bene arrivo ciao Sean ciao Ren è stato divertente sì dobbiamo ripetere un giorno o l'altro ci vediamo Hiro ok intanto ho raccolto tutti quanti gli amici di regola la banana è eterna perché eterna eccoti qua ah sì si è stato trovato davvero molto ma perché ci stanno ste uova spiaccicate tra l'altro ma questa è una testa accidenti mi avete trovato immagino significa che ho perso sapete cosa direbbe Joy adesso probabilmente qualcosa tipo frangia devi sempre dare il meglio in tutte le cose altrimenti come faranno a capire che persona fantastica sei lo farò la prossima volta immagino proprio anti sgamori qua in mezzo a tutto allora da qua non penso che possiamo uscire adesso pissi 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 faresti bene a non disturbare che vuol dire pissi pissi ma chi manca a sto coso lo dobbiamo fermare sopracciglio ok l'abbiamo preso e adesso qua dentro ci sarà qualcuno la cassetta di lettere blu molto sospetta ok ma non mi fa fare nulla controlliamo qua boing sono io Joya sei riuscita a trovarmi quindi ora devo inventarmi qualcos'altro ho trovato riusciterò l'alfabeto al contrario Z Y X W V U O M O ok manca quello che volevo giocare a nascondino ma qua sotto c'è qualcuno la cannuccia a spuntare al terreno vuoi tirarla? assolutamente si eccoti qua ce ne avete messo di tempo temo di soffocare qui sotto che ridite nel mio nascondiglio niente male sembra che avete trovato anche tutti gli altri inaspettato ma granito vediamo di fare l'appello sì ci dovrebbero essere tutti sull'attenti Van sono al tuo fianco come sempre Charlene sono qui Mikal sta dormendo ma che ca... ehi che ti è preso? ma dorme sempre Gioia ci sono ci sono sopracciglio ok frangia ci sono chignon chignon a rapporto naso naso va hero presente kel devo proprio devi proprio farlo ogni volta perli ehi non c'era bisogno ancora ma taffa obri eccomi qui chi manca dov'è basil eh è vero dov'è basil è strano avrei giurato di averlo visto andare a nascondersi dietro quell'albero basil dove sei riesci a sentirci basil puoi uscire fuori adesso hai già vinto ci sei basil ma dov'è ehi ecco basil non so se è basil stai bene basil sei sei incastrato what the fuck boss boss dovevo capirlo sei stato tu maledetto buono a nulla lascia andare basil sì che ti ha fatto di male basil basil è il nostro amico non osare fargli male boss lascia subito andare basil ma perché ripetono sempre i nomi non ha fatto nulla di male buah siete degli stupidi pensate che tutto questo riguardi basil non fate i fintitonti lo sapete perché sono qui come avete osato a giocare a nascondino senza evitarvi sono stato io a insegnarvi a giocare e non state nemmeno giocando bene come potete chiamarle un nascondino senza spintoni oh la mia corona di fiori ehi quella è la corona di fiori che abbiamo fatto per basil come hai potuto lascialo andare sei un bullo no se non posso giocare con voi non giocherà nessuno che stronzo questo posto appartiene a boss adesso e nessuno di voi è invitato ah ecco vedete ragazzi ci sono anche tipo i combattimenti ah proviamo ad attaccare cosa farà Obri ah ok devo prima scegliere tutto praticamente ok siete deboli e questo l'ho chiamato un attacco ok combatti io direi di continuare ad attaccare ragazzi continuiamo ad attaccare vediamo un po' le abilità ok avanti così di attacco molto carina questa musica ehi mi hai fatto male così non è più divertente avanti ragazzi gonfiatelo anche se gonfiarlo più di così ma sembra un po' difficile aia aia mannaggia santa allora c'è qualcuno che può curare comunque credo che sia Kel no non è Kel è Hiro si io direi di curare Obri visto che ci siamo ora si che provo ira è l'ora del mio colpo speciale schianto compro chi aaa minchia ma che cazzo ma le hai trasformate tutti in toast what the fuck Obri non si è arreso eh come fate a muovervi ancora ma sono nella merda ragazzi ma come faccio ormai è al limite attacchiamolo ok ma è andata di culo com'è possibile gruppo di umore ha vinto e guadagnato pure 32 punti esperienza ne abbiamo ottenuto 22 vongole ma che cazzo non è giusto la rivincita voglio la rivincita senti va a cagare va che hai rotto un po' i coglioni ma vorrei capire perché si sono trasformati in toast ti sei fatto male basil ah non preoccupatevi per me sto bene boss capisco che ti abbia ferito vedere gli altri divertirsi senza di te ma questo non significa che puoi rovinare il divertimento agli altri guarda che lo so ecco ora ti senti meglio basil sei sicuro che sia una buona idea boss porta solo guai per fortuna amore ha resistito all'attacco finale altrimenti sarebbe finita male non temete mi fido di lui mentre stavate combattendo evitato che mi venisse fatto alcun male è vero boss quante sciocchezze non voglio sentire altre bugie questo posto è mio non siete benvenuti beh finché resta così non sarà un problema direi che ora possiamo andare a casa di basil mi sembra un'ottima idea ora andiamo via boss non combinare guai va bene ok bene sono pronto andiamo ok allora tutto ciò ok direi di mangiare il caramello ovviamente è strano ragazzi ok perfetto salute ripristinata direi di salvare visto che siamo qua sovrascriviamo i file è tutto molto molto strano sinceramente molto strano ragazzi allora io direi di fermarci qua per adesso sicuramente il gioco comunque più si va avanti più assumerà toni oscuri esattamente come è successo con Doki Doki ragazzi perché pure Doki Doki all'inizio sembrava non dovesse succedere niente di che e poi è stato veramente il delirio quindi non so cosa aspettarmi da questo gioco perché all'inizio ti inganna probabilmente ti inganna con un'atmosfera che effettivamente è solo temporanea quindi sono veramente molto in dubbio molto in dubbio e dubbiosa su quello che ci aspetterà comunque nei prossimi episodi ovviamente ragazzi aspetto i vostri pari qua sotto in commento fatemi sapere se voi avete già giocato o guardato magari questo gioco e se si cosa ne pensate cosa vi è apparso di questo episodio e cosa vi è sembrato insomma dell'idea di portare questa serie sul mio canale questo video termina qui grazie a tutti un bacione vi obdocio a tutti ragazzi da giocherina ciao ciao